Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi finalmente vi porto sul canale e vi presento Ankh Divinità Egizie, gioco dell'Akmon, edizione italiana che vedete qui davanti a cura di Asmod Italia, che io ringrazio immensamente di cuore per avermi offerto questa copia per la recensione. Se vi ricordate qualche giorno fa vi ho già fatto il video dell'unboxing perché, come torno a ripetere, farò sempre i video come un tempo dove ci metto nel mezzo anche l'unboxing, vi faccio vedere il contenuto, però dei giochi maggiori e più grandi, in questo caso Ankh ed Insondabili, che arriverà a breve, farò proprio anche un video dedicato soltanto all'unboxing. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Ankh Divinità Egizie, in questa edizione italiana dell'Asmod è stato un progetto Kickstarter, come ormai il 99,9% dei giochi da tavolo, con tantissimi stretch goal. Qui davanti vedete soltanto la scatola base, ma chi ha fatto il Kickstarter aveva molto più contenuto. Un gioco che ricorda molto da vicino, anche perché gli autori fondamentalmente sono gli stessi, ricorda molto Rising Sun, quello ambientato nel Giappone feudale. Ed è un gioco dove voi dovrete andarvi a contendere la mappa dell'Antico Egitto, quindi del Vecchio Regno, dell'Antico Regno, e dovrete andare a impersonare divinità che scenderanno sul campo per combattere e per dare i suoi poteri ai popoli che le seguiranno. Vediamo ad esempio Iside e Osiride, Amon, il dio Rad del Sole e molti altri, per chi poi magari ha comprato anche i pacchetti di espansione col Kickstarter, o per meglio dire stretch goal, avrà sicuramente molte altre divinità da schierare sul campo. Il gioco, ragazzi, è veramente molto semplice, ha delle meccaniche che sono veramente basiche, facili anche da ricordare e tutto quanto, però a livello di strategia e di logistica, o per meglio dire di spostamenti di truppe sulla mappa, è veramente molto interessante, perché questo è un gioco basato al 100% sulla battaglia e sulla conquista. Abbiamo la mappa dell'Antico Regno, divisa in vari territori, di solito sono tre, ma alcune regole, tipo Belline, le carovane di cammelli, servono per delimitare nuovi territori, quindi un territorio lo potresti spezzare in due e diventerebbero quattro, ad esempio. Comunque sono quei tre territori, Alto e Basso Egitto, lo sapete come era storicamente, divisi dal fiume Nilo. E questi territori vanno setappati con il libro delle missioni, che all'interno ve l'ho fatto vedere in fase di unboxing, per andare a vedere che tipo di missioni o che tipo di battaglia andremo a combattere. Ognuno di noi sceglierà una divinità con i suoi seguaci, le sue pedine, che sono sei pedine che lo seguiranno, e sono belline perché sono anche raffigurate come la divinità che seguono, magari quelli che seguono Anubi saranno più con la testa di sciacalla e sembrano di Mejai, quelli che invece andranno a seguire la dea Iside oppure il dio Osiride avranno più le sembianze del nume protettore che vanno a seguire. E tutta quanta la mappa è divisa in esagoni. Scopo del gioco è quello di fare più punti e ovviamente conquistare più cose, perché nel gioco ci sono le piramidi, ci sono i monoliti e i templi che noi dovremmo andare a conquistare e per conquistarli c'è un meccanismo particolare che fa sì che quando noi adiacente a una struttura del genere abbiamo anche solo una nostra truppa, c'è la possibilità che se abbiamo la supremazia in battaglia, che è un altro evento che può capitare in quel luogo, noi andiamo a prendere nel conteggio dei punti tutti quanti i monoliti e le strutture che abbiamo conquistato, come ho detto precedentemente, standoci avanti. Quando si va a fare una battaglia, un po' come su Rising Sun, si va a fare il conto della forza delle truppe, ogni truppa costa uno, per farvi capire, cioè da uno come forza, andiamo a fare tutto quanto la somma, chi ha la forza più alta vince, nel caso non ci sia possibilità di spareggio si possono usare carte che abbiamo in mano e che sono carte che dobbiamo tenere nascoste, ne usiamo una e magari quella carta, oltre a una descrizione e un bonus, in fondo ci dà anche un bonus aggiuntivo alla forza, magari più 0, più 1, più 2 e cose del genere, per farci vincere il combattimento. Colui che perde, gli vengono rimosse tutte le pedine da quella regione lì e quella regione viene conquistata e i punti, che sono poi il favore delle divinità, vanno al giocatore che l'ha conquistata. Le divinità non possono morire, le truppe vi possono morire, tutte quante, le divinità no, una volta che tutte le truppe sono sconfitte, la divinità resta lì e ovviamente un dio non può essere ucciso, soprattutto dai mortali. Ed è bellino perché si possono fare due azioni ogni turno e le azioni sono scelte fra quattro, in una lista, in una plancetta, che ci viene a dire che se noi scegliamo un'abilità in alto, tipo muovere le truppe, non possiamo rifare la stessa, ma dobbiamo per forza di cose sceglierne una di quelle più in basso. Quindi se muovere le truppe più in alto e sbloccare un potere Hank è quella più in basso, se sblocchiamo prima il potere Hank e dopo vogliamo muovere le truppe che stanno più in alto, non lo possiamo fare. Quindi le azioni vanno un attimino calcolate. Muovendo le truppe si muovono le truppe di fine a tre caselle sulla mappa e poi ogni volta che andiamo a fare un'azione di queste, nel tracciato delle azioni si va avanti di uno step fino a che non si arriva in fondo, che è uno step bianco, con un reset dell'azione al momento che sarà stata compiuta. Sull'altra plancetta, che è quella degli eventi, ci viene sbloccata la possibilità di fare un evento e quell'evento lì sarà o del giocatore in questione o di tutti i giocatori. Gli eventi sono tipo conquista, gli eventi sono tipo battaglie e cose del genere. Anche le battaglie infatti si decidono quando arriva l'evento battaglia, non quando vogliamo noi e non è una delle azioni classiche. Come vedete è un gioco veramente, veramente tanto, 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 tanto di azione. È votato completamente all'azione, qui non c'è il commercio fra giocatori, non c'è... Sì, un pochino di sabotaggio sì, però più che altro è riuscire a muovere le pedine nel modo giusto e soprattutto per prendere i più punti possibili quando arriva l'evento della carovana dei cammelli riuscire con i cammelli a tagliare in due una di queste regioni così da conquistare ancora più punti. Perché a quel punto andandola a delimitare avete fatto dei nuovi confini politici che qualcuno dovrà avvalicare per venire a prendere ciò che è vostro e vi siete guadagnati col sudore. Quindi è un gioco veramente molto interessante, ambientazione riprodotta veramente da paura, ti cicali nel mezzo, ti sembra di essere davvero nell'antico Egitto ed è veramente una figata assurda. Ultima regola bellina che io ho apprezzato molto, i giocatori che rimangono come punteggi in basso possono decidere di fondere le loro divinità, praticamente i loro dei si fondano, Amon e Ra potrebbero diventare Amon Ra, si fondono insieme tenendo le abilità di tutti quanti gli dei, quindi diventa un dio per due e giocano insieme. Praticamente i due giocatori che prima erano rivali si mettono al tavolo insieme se vogliono farlo e praticamente mettendosi accanto non fanno più due azioni a testa ma ne fanno una per uno, usando una divinità che è diventata una divinità doppia, una divinità per due. E quindi secondo me è veramente molto interessante come meccanica. Per me è passata pieni voti, non vi deve mancare. Ringrazio Asmod Italia per avermi offerto questa copia per la recensione e vi ricordo che se lo volete ordinare, primo link in descrizione e in sovraimpressione dal nostro negozio sponsor Gioco Libreria Semola al miglior prezzo sul mercato. Se lo trovate e è finito o proprio non c'è in lista, ce l'ha, ho verificato, però proprio comunque o non c'è o l'ha finito, mandate una mail al supporto a Corrado e fateli presente che venite dal canale di Coridan e volete questo gioco, lui farà il possibile anche se non ce l'ha in lista per trovarvelo. Usate sempre il codice discount Coridan7, 7 è il numero, Coridan7 è tutto a maiuscolo, per avere uno sconto pari al 7% e per spese superiori ai 79€ consegne e spese postali gratuite in tutta Europa. In 24 ore lo ordinate, vi arriva a casa. Ancora una volta grazie ad Asmod e ragazzi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti!